Allora parti con la gamba destra e tira bene su tenendo il ginocchio, bravissima, ti la metti l'ora che salgo sono sempre qui. C'ho da saliii, cosa c'è, cosa c'è? Ma mamma, mamma, perdo lo scalino. Faccio quello per gli anteriori, non lo so. Non è proprio così, però mi viene proprio spontaneo questo. Aiuto, 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 ti ho sgusciato, aiuto, aiuto, aiuto. Azzellino, mettiti a moto, mettiti a moto, mettiti a moto, è vero troppo. Sì, allora, che pedala, pedala, continua a pedalare, guido. Abbiamo braccio sinistro. Braccio sinistro, gamba destra, no, parla su lui. Gamba destra. Mi sento. Adesso tu le braccia insieme. Tutte e due le gambe insieme, mobile. Ci stanno copiando. Tre. Anche pettorali, pettorali. Anche alla tua. Pettorali, guido. Fai, fai il mignolo, il mignolo. Piega il petto e stendo. I glutei, guido, i glutei. Guido, i tuoi glutei. No, io mi ci metto a sedeo, ragazzi. Manteniamo le spalle, bravissima. Le spalle, le spalle. Possiamo lasciar andare. Oh, pedala. Mi sono rotto le spalle. Lasciare. Non ce la faccio più. Oh, guarda cosa c'è. Guido, guarda cosa c'è. No. Eh, va fatto. Ti si fa una cosa. Ti si fa ridi a bestia. Sì, sì. Attenzione, guarda, è così. È proprio così. Uno tranquillo e poi fa... La metro Goldmeier presenta... La 50 centimetri Goldmeier presenta... E dovevi dilugire qui. E mi è venuto il miagolio. È tenuto il miagolio non ha riso perché ha sciupato la battuta. Sei un disutile. Vai, vai, vai. Vai, vai. Allora sai che faccio? Vado nella Smart. Sì. E ci porto fisso io. Frega niente a me cosa ci porti. Gesca scusa ma questa qui è la macchina quella dell'altra volta che dava la scossa. No, assolutamente. Cioè questo affare qui cos'è questo e l'altra volta... Questo è un microfono. Dai. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi. Eppure adesso siamo insieme. Non mi porti stare! Non mi porti stare! Mi porti la mia vita! Non mi ha vissuto! Mi sono vissuto! Ma tu tu mi casco sempre in questo affare che... Che dolore... No! No, un dolore dietro l'altro no! Guido! Guido da te questa cosa non me l'aspettavo a letto con il mio migliore amico qui nel bad luck ma non mi interessa con me hai chiuso fine Oh è proprio un cretino Ragazzi cioè oh allora Graziano ma non mi entra più la caccia è quegli strumenti di sotto guarda qua Ha la caccia tutta la caccia Vai quando sei arrivato La soddisfazione Ma non c'è capito che non mi entra più Bene bene Graziano E ci siamo scambiati dei camice ridammi la mia vieni guarda là Eccoci Funzionano eh però pensavo esagerasse Dai Dai